Le problematiche relative al rapporto medico-paziente sono emerse parecchie volte nell'ambito del nostro contenitore associativo. Questo per me come medico lo sento come un problema reale e oggettivo per il fatto che comunque mi pongo la domanda del come rapportarmi al meglio ai pazienti, quindi non solo in maniera scientifica ma anche in maniera umanistica, cercando di unire queste due cose per fare in modo di poter entrare nel mondo del paziente. Ma poi rappresenta anche una delle basi del nostro contenitore associativo, come sapete. Il perché abbiamo deciso di leggere questo libro curato da Paolo Barnard, che è un noto giornalista, scritto da tre grandi luminari della medicina, Sandro Bartoccioni, Gianni Bonadonna e Francesco Sartori, e che appunto si intitola dall'altra parte, edito dalla Burra, edito l'anno scorso nel 2006 se non sbaglio questo libro. Questi tre grandi luminari della medicina sono passati dal ruolo di curanti al ruolo di curati. E quindi si sono trovati improvvisamente a vivere la condizione del paziente. Ora poi, durante la lettura del libro, abbiamo visto in quale maniera hanno vissuto la condizione del paziente, poi magari dopo ne parleremo, però comunque hanno assaporato che cosa significa stare senza il camice addosso, stare in un letto di ospedale, o stare nelle corsie ad aspettare di fare il tale esame piuttosto che quell'altro, essere dei numeri, perché purtroppo la condizione del paziente, spesso, speriamo che poi si modifico il tempo, è quella di essere un numero e quindi di perdere forse in parte un pochettino di dignità. Questa è un po' la sensazione che emerge dal nostro vissuto. Questi tre medici hanno raccontato le loro storie con grande schiettesa, miscelando autoironia e tragedia, in effetti, nei loro racconti, e hanno rivelato quanto il sistema sanitario sia poco vicino alle esigenze degli individui. Mi piace più chiamarli individui che si amano piuttosto che pazienti. Sapete che paziente è una parola che noi amiamo poco, perché di per sé, e anche nell'etimologia stessa della parola, già pone l'individuo in una situazione comunque di inferiorità e di sudditanza, preda di quello che è purtroppo dominante, che è l'assistenzialismo, che noi invece stiamo cercando di contrastare attraverso la partecipatività del paziente nel suo stesso percorso di guarigione. Quindi la lettura di questo libro rientra a pieno titolo in quello che è il nostro percorso di crescita. La dico nostro, e lo sottolineo, perché non può essere un percorso di crescita soltanto per i pazienti, se i medici o i terapeuti in genere, in nostro caso anche gli psicologi, non interagiscono in una maniera assolutamente diretta, e quindi diventa un percorso comune di crescita attraverso lo scambio. Il valore di questo libro, l'importanza di questo libro, risiede e sta anche nel fatto che il discorso poi è proseguito, in quanto si è istituita una consulta di medici ammalati, che hanno appunto unito la condizione del medico, del tecnico, alla condizione del paziente, e nel tentativo di cambiare l'approccio alla medicina, l'approccio al paziente. Quindi sta andando avanti questo discorso, poi Paolo Barnard ci spiegherà in che maniera sta evolvendo questa consulta e che piega sta prendendo, e in quale maniera si sta muovendo la cognizione o la consapevolezza di questa nuova medicina. Volevamo sapere, secondo te, quanti medici hanno letto questo libro? È una risposta impossibile da dare, perché noi sappiamo che questo libro ha venduto tantissimo, ha fatto una quantità di ristampe straordinaria, che ne ha fatte otto, e sapere se lo hanno comprato i medici, francamente non è possibile. Però io le posso dare un indicatore che potrebbe valere come idea. Lei pensi che a seguito della pubblicazione di questo libro noi siamo stati chiamati a parlare in tutta l'Italia, ancora continuiamo, e anzi abbiamo dei problemi proprio a riuscire a gestire tutte le date, e quindi chiamati soprattutto a ospedali, soprattutto a aziende sanitarie, a università, alcune associazioni anche, come potrebbe essere questa, per esempio, Nadir, o altre di questo tipo. In particolare nell'ospedale e nell'università, cioè facoltà di medicina, la presenza dei medici è stata sempre scarsissima. Magari era appunto presente il comitato dei medici che invitava, so, 4, 6, la newsletter è andata a, so, 200 medici del Policlinico, e ne saranno venuti, non so, in media 3, 4, 5. Dunque, la figura del medico è stata molto, ahimè, molto assente da questo tour, e quindi questo le può forse dare un'indicazione su quanti medici possono aver comprato questo libro. Devo dire che invece la risposta è stata enorme dal punto di vista per quello che riguarda gli studenti di medicina, addirittura proprio di massa, aule piene, stracolme, con i ragazzi fuori che aspettavano per entrare, quindi chissà, forse loro l'avranno comprato, spero. Secondo te, un medico, solamente ammalandosi, capisce che la sanità nel nostro paese non funziona? Purtroppo sì, perché dovrebbe capirlo con il cuore, dovrebbe capirlo con la sensibilità, dovrebbe capirlo con l'anima, con la vocazione a un mestiere che molti medici fanno solamente in superficie, non nella sostanza, dovrebbe capirlo assolutamente in altro modo, il dato di fatto è che purtroppo chi diventa medico oggi esce da una formazione che, ahimè, lo spegne moltissimo, lo rende un essere che ha grosse difficoltà nel rapportarsi sia con la sofferenza che con l'idea della morte, eccetera. Per cui, ahimè, chi è messo in questo modo, cioè i medici che riescono ancora a percepire i mari della sanità con l'anima, col cuore, è assai difficile. Ci sono, ci sono, ne abbiamo incontrati, medici non ammalati che si sono fatti portatori di battaglie, egregi all'interno degli ospedali in cui lavorano, purtroppo ahimè isolati, nonostante fossero professionisti di tutto riguardo, addirittura a volte primari, direttori di reparto, eccetera. Però sono veramente pochi e credo che allora a questo punto, realisticamente parlando, io in tutti gli anni in cui mi sono occupato di malattia, di sanità, di persone sofferenti, eccetera, mi sono reso conto che, ed è lì che mi venne un'idea, un giorno in casa, banalmente, mi sono reso conto che forse l'unico modo per riuscire a tirar fuori qualcosa di un cambiamento radicale nel mestiere del medico era di chiedere ai medici che avessero subito un terremoto epocale, perché attenzione che ammalarsi per una persona comune è già di per sé un grosso trauma, per un medico vi garantisco che è una cosa incredibile, ha una valenza molto molto superiore, perché il medico come disse meravigliosamente il professor Sartori durante l'intervista che gli feci, disse, quando il medico sa male scopre per la prima volta di non essere immortale. L'immortalità è un problema di tutti i cittadini, tutti un po' più o meno ci illudiamo che tanto non capiterà mai, ma nel medico è una condizione sine qua non, il medico si forma nella convinzione di non ammalarsi mai, di essere immortale, se no non riuscirebbe neanche a entrare in un ospedale, e poi il discorso è molto lungo. Allora, abbiamo, ho pensato di fare questa cosa, quindi di chiederlo ai medici ammalati, che realisticamente per rispondere sempre alla sua domanda, secondo me è l'unica possibilità oggi di trovare medici che riescono veramente a capire cosa c'è da fare nel mondo della salute della sofferenza. Per gli altri è molto, molto difficile, potrebbero in teoria, ma non lo fanno. Che tipo di paziente vorrebbe trovarsi un medico e che tipo di medico vorrebbe trovarsi un paziente? Il paziente preferisce il medico accondiscendente, buono ma poco competente, o più competente ma meno umanizzato, tra virgolette. Che paziente vorrebbe trovarsi il medico, adesso sempre appunto senza generalizzare, ma cercando di raccogliere dall'esperienza compiuta, beh la risposta è molto semplice, una persona priva di contenuto e di personalità, cioè un oggetto, uno che non rompe le scatole, che si fa curare, fra virgolette, perché quello non è curare, chi pone meno problemi possibili, scoccia il meno possibile, fa meno domande possibili, questo genericamente parlando. Poi ci sono invece altri medici che con i loro pazienti vorrebbero un dialogo, anzi a volte raramente, però si capita di incontrare medici che lamentano proprio la passività dei cosiddetti pazienti, a volte anche un po' l'aggressività, le pretese eccessive, quasi magiche, che la medicina curi, che la medicina risolva, però sono sempre delle eccessioni, normalmente il medico per tanti motivi, non solo mancanza l'umanità, ma per tanti motivi vorrebbe una cosa, un pezzo di una catena di montaggio da gestire, puoi andare a casa alla sera e buonanotte. Che tipo di medico vorrebbe il paziente? Beh, anche lì, io posso dire cosa sarebbe auspicabile, sarebbe auspicabile che un paziente desiderasse tutte e due, cioè una persona in grado di entrare in contatto con la sua persona e anche un uomo competente, perché naturalmente è verissimo che tutti quanti vorremmo trovarci nelle mani di un medico uomo, donna, naturalmente, che ci accoglie, ma è anche vero se poi questo ci accoglie, ma sbaglia le diagnosi, ti crea dei guai della Madonna, è un problema, a volte anche gravissimo, quindi certo che se posso dire, per un'esperienza vissuta in prima persona con un grande medico di questa città, io ho visto, seguendo l'opera di questo grande uomo che si chiamava Dottor Vannini e lavorava alle malattie infettive dell'ospedale maggiore, lui era un uomo che era apprezzato immensamente per la sua capacità umana e devo dire che la qualità scientifica delle sue cure, che era tranquillamente nello standard migliore per carità di Dio, però i pazienti non ci badavano, le persone che andavano da lui non manco se ne preoccupavano più, c'era un tale sfidamento, un tale entusiasmo di essere accolti col problema dell'AIDS da questa persona così capace di accogliere queste ansie convulse, di tramutarle in momenti di pace, che la qualità della vita che lui restituiva ai suoi pazienti, Vittorio Vannini, era talmente alta che io mi ricordo benissimo che uscivamo perché io accompagnavo tanti di queste persone ma manco leggevano, non leggevano neanche i recerti, non leggevano neppure gli esiti degli esami, basta, erano andati da Vannini e era posto così, per cui a volte paradossalmente l'umanità fa questi giochi meravigliosi, però ecco per concludere credo che, anzi io credo che il paziente debba pretendere tutte e due, cioè l'umanità, la capacità di accogliere e anche la capacità scientifica, faccio un appunto se ho il tempo sulla parola paziente perché già è stato detto ma io aggiungo qualcosa di più, è un termine che io detesto e lo dico tutte le volte che faccio una conferenza di fronte ai medici, gli studenti, il paziente è un termine che non è messo a caso perché il paziente dovete cercare di ascoltare la fonetica, il suono di questa parola, quando i medici dicono perché il paziente, quando noi ancora dicono bisogna essere più umani coi pazienti, coi pazienti c'è una distanza fra medico e quel paziente là che è una cosa incredibile, il paziente è quello là, è l'altra cosa, è di là, è sempre dall'altra parte, il paziente è quella cosa là, mai io, il medico usa il termine paziente proprio per evitare di entrare in gioco come io, come persona che si ammalerà, che soffrirà, che morirà e che affronterà questi problemi al 100% dei casi, capite? E questo è terribile questa barriera, è una delle prime cause di questa disumanizzazione della figura del medico che viene appresa durante i corsi universitari, infatti noi come consulta vorremmo proporre l'abolizione del termine paziente. Il paziente sono io, io continuo a dire a questi medici, il paziente si, pensate che l'altro giorno incontro un ex compagno del liceo, purtroppo molti miei compagni del liceo sono diventati medici, ahimè, perché li conosco, vabbè, conosco questa persona e lui per stare nel tema di questo inciso che sto facendo sul paziente, quello là, mai io, e ci incontriamo per la strada, saluti, abbracci, sorrisi e lui mi salisce, Barnard ho visto, stai diventato piuttosto noto nel mondo della sanità, perché il libro, perché la trasmissione, perché la consulta, che è una consulta fatta al ministero della sanità con Livia Turco, eccetera, e ah vedo che stai facendo questo lavoro, i medici ammalati, e poi mi guarda e mi dice, ma vedi Barnard, sapete qual è il problema di voi pazienti? Io l'ho guardato e ho pensato, fra l'altro questo qui è uno che sarà 95 kg ed è a un metro e cinquanta, quindi qualche coronare un po' tappata, mi sa che non glielo auguro, ovviamente, giuro, no veramente, non glielo auguro, però oddio, capito, 100 kg, quella al testo, ma quello è uno che, vabbè, dico fra l'altro, ma pensate che roba, voi pazienti, questo è un medico che dirige un reparto a Sant'Orso, voi pazienti, il problema è di voi, ma tu chi sei? Io avrei voluto toccarlo così, ma di cosa sei fatto? Scusa, no perché non sapevo mica che tu non eri umano, che tu non sei fatto di cellule che si ammaleranno, che invecchieranno, avrai problemi, starai male, soffrirai tua moglie, tuo padre, tua madre, capito? Ma dove stai tu? È incredibile questa cosa che i medici usano, bisogna abolirlo il termine il paziente, è terribilmente disumanizzante, è parlare di le persone, oppure addirittura noi che ci ammaliamo, in alcune frasi si può benissimo sostituire la parola il paziente, la malattia del paziente, il disagio del paziente, perché invece di dire il disagio del paziente non diciamo il disagio di noi che ci ammaliamo, perché i medici non dicono questo? Sarebbe una rivoluzione epocale che il medico parlasse del disagio, della terapia del dolore di noi che soffriamo, perché è nato e c'è dentro anche lui, in un modo o in un altro, mio padre è morto a 93 anni, non aveva una malattia al mondo, ha avuto gli ultimi due anni della sua vita che ha sofferto come un cane, non aveva niente, semplicemente soffriva perché stava morendo, stava perdendo le forze, ha avuto un disagio passesco, ha sofferto credo quanto una persona che abbia avuto una malattia terminale di due anni, e quindi non è vero che si soffre solo se si si ammala, si soffre e siamo destinati tutti a arrivare a un momento molto difficile, quindi si può benissimo dire noi e non loro, i pazienti. Durante il corso universitario ti insegnano ad osservare la distanza terapeutica, come ad utilizzare un linguaggio incomprensibile. Uno dei primi insegnamenti che a me sono arrivati è che tu devi usare un linguaggio incomprensibile sia con i pazienti che con i parenti dei pazienti, e questo perché è una tutela. Io ho sempre rifiutato di chiamare i pazienti per numero di letto, che mi sembra una roba indegna, perché insomma, voglio dire, hanno un nome, un cognome, degli affetti, un ammondo e via discorrendo. Comunque c'è questo discorso, la distanza terapeutica, e addirittura ci sono dei pazienti, comunque degli usufruitori del servizio medico, che richiedono questa distanza terapeutica, perché se tu ti avvicini troppo ne hanno paura, ma perché? Perché si sentono caricati della responsabilità del loro percorso di guarigione, e questa è una grossa difficoltà, perché adesso non è che voglio tutelare la classe medica, sia ben chiaro, però dobbiamo considerare che il problema è anche del malato. No, ma le cose vanno viste a 360 gradi, io sono molto d'accordo di non fare, hai ragione, dire no, non è una questione di sendere i medici, vediamo le cose esattamente come sono a 360 gradi. E poi c'è la sindrome di onipotenza. Chi si iscrive a medicina, un pochino di sindrome di onipotenza, ce l'ha. Questo io lo confesso, perché io sono la prima, per carità. È chiaro che con la crescita professionale e umana, magari bisognerebbe cercare anche di superarla, questa sindrome di onipotenza, umanizzandosi un pochettino, e questo lo sanno insegnare molto bene coloro che noi definiamo pazienti. La domanda che avevo pensato in parte è già stata argomento di discussione, perché appunto dopo aver letto il libro e aver un po' riguardato in internet la trasmissione Nemesi Medica, che è anche un po' all'origine di quello che poi viene riportato nel libro, mi era venuta voglia di sapere se ci fossero state delle conseguenze tangibili dalla messa in onda di quella trasmissione e poi appunto dalla pubblicazione del libro in questione, in oggetto anzi. E da questo punto di vista abbiamo parlato, mi sembra appunto, della consulta, che è un procedere, e mi è venuta voglia di chiedere, agganciandomi a questo e a quello che si è detto già all'inizio dell'intervento di tanti giovani nell'università, di giovani medici, medici in erba, diciamo così, laddove si è avuto modo di discutere su questi argomenti, si può leggere già come conseguenza questa affluenza dei giovani e all'insegna, diciamo così, di quell'intenzione di avvicinare la scienza e la sofferenza. Cioè, se questo cammino è in corso e la risposta dei giovani può essere letta come qualcosa che sta crescendo conseguentemente alla semina di questi concetti? Allora, innanzitutto va detto che il discorso dell'umanizzazione e del cambiamento della sanità e della medicina non è che parta naturalmente con questo, è un discorso che gli studenti nell'università e i giovani medici si sentono da tanto tempo, quindi probabilmente qualcosa dentro di loro si è già mosso per questo attingere di quello che si dice in giro. Però, se la loro risposta così entusiasta alla nostra iniziativa sia stata determinata da un profondo desiderio di essere medici in un altro modo, questo non lo so, io a distinto posso dire che credo che siano molto spaventati i giovani che fanno medicina hanno una gran paura perché sono schiacciati fra il mito del ruolo del medico di successo quindi il medico che deve comunque armarsi di unghie e di denti per riuscire ad avere un mestiere, una carriera decente all'interno di un sistema che è tutto burocrazia, politica, spartizione di ruoli eccetera, gare, contro gare taglia gola, destra, sinistra, sono schiacciati dalla paura di questo ma anche da un'ansia che credo che appartenga proprio all'età giovanile, che è un'ansia in origine buona, cioè quella di essere veramente un buon medico credo che un po' tutti si avvicinino alle professioni con l'idea di farla bene, poi dopo il primo o secondo anno sono già delle carogne, questo nell'avvocatura, nel giornalismo, nel mio mestiere, quanti ragazzi ho visto in tutti questi anni che sono venuti da me, ma da tanti anni, a cercare di, per voler essere i giornalisti l'ideale è quello di diventare il giornalista che fa le inchieste, che cerca la giustizia eccetera poi quanti novisti che sono finiti nelle redazioni più miserabili a fare i portacarte di cause che sono ignobili, come nel resto del Carlino, come in altri giornali anche peggio quindi purtroppo l'ansia per il mestiere e questa genuina o buona intenzione di farlo bene credo che si combinino e causino questa forma di interesse nei giovani per questa iniziativa qualcuno di questi sarà anche motivato da una particolare umanità che magari ha già per nascita o per crescita eccetera ma non so se sono la maggioranza onestamente, questo per rispondere alla sua domanda poi perché mi sembra difficile che all'età di 22, 23, 24, 25 anni uno possa già avere questa percezione così precisa del fatto che, come dice quel bellissimo detto che non so di chi sia che un medico, se un medico usa la scienza cura qualche volta se usa l'umanità cura sempre è famosa questa frase, la frase memoria non ce l'ho, il concetto è questo e dice appunto se tu usi la scienza curi qualche volta, che è vero perché tante volte non ce la fai se invece usi l'umanità curi sempre, un 100% dei casi quindi qualche studente che abbia già dentro di sé questa idea a 24, 25 anni mi sembra difficile a meno che non siano proprio delle eccezioni molto rare per cui realisticamente parlando credo che sia la combinazione dei primi due fattori che determina l'interesse per questa iniziativa Una cosa che manca nell'ambito della preparazione del giovane medico è sicuramente la frequentazione dell'ambiente ospedaliero fin da subito perché è quello che può fare maturare questa cognizione Chi fa la scelta di frequentare sin dai primi anni l'ambiente ospedaliero timbrando il cartellino alle 7 del mattino insieme agli infermieri andando a togliere le padelle, guardando il contenuto della padella perché la prima cosa che un medico deve imparare è guardare le feci, i vomiti e avvicinarsi in questa maniera anche fisicamente alla sofferenza e cercando di imparare a fare il giroletti anche se non sarà poi la tua competenza in futuro ma intanto comunque li impari questo forse ti può fare maturare questa cognizione ma sinché le nostre università propongono un corso di laurea in medicina che non è un corso di laurea in ingegneria con tutto il rispetto del corso di laurea in ingegneria ovviamente ma che la medicina comunque c'è questa parte umanistica fortissima ecco, ti prepara soltanto dal punto di vista tecnico e ti fa correre dietro agli esami è dura che poi un ragazzo di 24-25 anni possa maturare questa consapevolezza è evidente che esiste quindi una grande differenza tra i medici che lei ha interpellato e intervistato e i malati comuni anche se abbiamo detto che comunque la malattia è comuna a tutti quindi facciamo una distinzione giusto per capirci in termini appunto di domanda non le pare che i suoi interlocutori comunque potessero godere di una serie di privilegi sia perché sicuramente è stato per loro un terremoto maggiore di quello che può accadere magari a una persona che non è medico ma comunque di una serie di privilegi sia per la conoscenza e la competenza che comunque gli consente di muoversi meglio nei meandri diagnostico-terapeutici e sia per la facilità con cui riuscivano ad accedere alle visite e alle indagini diagnostiche questo è un tema che noi abbiamo affrontato fin da subito ed è stato onestamente ammesso dalla totalità dei medici che hanno partecipato sia al progetto del libro che a quello della trasmissione e soprattutto a tutto quello che è successo dopo Francesco Sartori lo ripete quasi tutte le volte che parlo in pubblico salvo una persona che non è presente nel libro ma è presente nella consulta che si chiama Silvie Menard lei è la direttrice della ricerca sperimentale di oncologia all'Istituto Tumori di Milano ammalata di cancro, si è unita al nostro gruppo la quale fece una scelta incredibile perché io la giudico una scelta eroica e cioè fu quella di intraprendere quando si ammalò di cancro lei ha intrapresi il percorso del cup, del ticket, della coda della visita alle 7 da mattina in anonimato quindi litigando, alzandosi senza mai dire sono la dottoressa litigando con gli infermieri, con i medici quindi a parte lei ma comunque gli altri tutti hanno ammesso questo rimarrà la storia, la battuta nella trasmissione del professor Sandro Bartoccioni quando disse, ma quel povero Cristo di malato come fa? lo disse con una partecipazione perché lui stesso si era trovato, nonostante fosse primario nonostante fosse un grande cardiochirurgo ma comunque si era trovato perché un cardiochirurgo di oncologia naturalmente non ha avuto grandi aiuti e allora ha dovuto cercare così anche lui come faremo tutti noi, fra amici o medici ma colleghi, gente che ma dove vado, cosa faccio c'è stato questo momento terribile e io gli ho ricordato pensi che poi lei oltretutto è anche medico si immagina una persona comune lui rispose di getto ma un povero Cristo di malato ma come fa? quindi la partecipazione a questo problema del privilegio è stata dichiarata da tutti non solo è stata dichiarata quindi uno dice bravi, onesti ad ammettere che hanno avuto obiettivamente dei privilegi ma c'è un impegno di questi medici su questa cosa è un impegno che si è tradotto in una delle proposte più dirompenti credo dal nostro decalogo che è quella di fornire lo stesso strumento di immediata scelta del centro d'eccellenza del medico migliore, della cura migliore eccetera anche alla persona comune in modo che questo strumento sia disponibile all'interno dello studio di qualunque medico di base e questo deve essere fatto attraverso idealmente dovrebbe essere fatto dalla collettività che io chiamo il termine che uso per Stato cioè dallo Stato che deve nominare commissioni che valutino commissioni super partes che valutino la performance dei centri specialistici dei medici da tutti i punti di vista quindi non solo da quello scientifico la mortalità il tasso di infezioni la recidività eccetera tutte queste cose ma anche naturalmente come stiamo dicendo la performance umana l'accoglienza dei reparti quanto viene seguito il dolore quanto vengono seguiti i parenti eccetera tutti questi dati metterli assieme stilare una classifica che ogni anno deve essere aggiornata che sia pronta all'uso per la persona in modo che se una persona ha un problema specifico individuato in un organo che deve essere trattato urgentemente naturalmente stiamo parlando di medicina d'urgenza perché poi dopo per quello che riguarda tutto l'approccio alla guarigione lì sono cose molto più estese molto più delicate ma ecco deve essere operato al pancreas è un caso che cito perché accade in questi giorni un'amica mia deve essere operato al pancreas d'urgenza e dove vai? Allora questa persona nel nostro progetto avrà a disposizione quello che è successo a questa mia amica purtroppo oggi ahimè grazie ai soliti canali delle conoscenze perché io conosco tutti questi medici mi sono interessato e in 5 minuti ho saputo dove dovevo andare e infatti l'operazione è riuscita benissimo tutto è andato bene la diagnosi è stata molto ridimensionata rispetto a quello che era stato fatto in questo ospedale qui a Bologna in provincia di Bologna a Ventivoglio quindi per fortuna che lei ha avuto questo canale ma ecco questa opportunità che questa mia amica ha avuto e che l'ha salvata perché di là la volevano squartare di qua le hanno fatto tutta altra cosa deve essere disponibile a tutti i cittadini semplicemente appunto con questa selezione che viene fatta non solo ma noi vogliamo introdurre norme secondo le quali esiste poi un meccanismo di esclusione dei centri o degli specialisti che non rispettano che non riescono a rispettare negli anni di standard prefissati perché capite che per quanto può sembrare scandaloso che uno dice vabbè allora questo medico anche se è nel primo della carriera mi dispiace prende il suo e va a fare il giardiniere o va a fare un'altra roba oppure va a fare l'amministratore sanitario da qualche altra parte e ne va della nostra vita cioè io non ho nessun problema non me ne frega scusate il termine poco ortodosso non me ne frega niente è la mia vita che è in ballo io ho visto con i miei occhi cose che fanno raccapricciare e ho lottato perché venissero alla luce e non ce l'ho fatta gente che operava ubriaca alcolizzati con un primariato di chirurgia oncologica su Alcro di Aviano tanto per non fare nomi e ho chiesto al chirurgo che mi dava queste informazioni che mi raccontava disperato di questa situazione che cosa potevano fare di aiutarmi a intervenire lui a un certo punto non ce l'ha fatta ecco però voglio dire una persona così deve essere allontanata dalla medicina Sandro Bartoccioni a Roma recupera per strada un amico che ha avuto un incidente in moto che ha uno sfondamento della Milsa un problema eccetera corrono al pronto soccorso vanno in sala operatoria Sandro Bartoccioni riconosciuto come collega viene ammesso in sala operatoria si trova davanti un chirurgo che stava sbagliando fra la Venacava e la Horta con l'aiuto che gli ha preso la mano professore un po' più di qua per favore a quel punto Sandro è intervenuto di forza ha detto guardi vada a prendere un caffè che continuiamo noi e ha salvato la vita questa persona che probabilmente sarebbe morta avrebbero detto purtroppo non ce l'ha fatta l'incidente era troppo grave allora questa roba deve succedere in Italia noi abbiamo queste proposte molto coraggiose proprio per affrontare la sua domanda cioè io cittadino comune devo avere lo stesso percorso preferenziale che ha un medico che conosce benissimo l'ambiente sanitario questo si può fare e non lo proponiamo un'altra cosa che ho vissuto in prima persona e che quindi volevo proporre alla consulta anche perché non mi sembra di averla vista nel decalogo ma probabilmente mi è sfuggita cercare di far sì che i medici puntino un pochino più l'accento sull'interdisciplinarità delle competenze perché la persona quindi non il paziente ma la persona è un'aggregazione di cellule di organi di apparati e invece succede più delle volte negli ospedali che io mi occupo del rene mi fermo qui non so più niente cioè che la persona venga scomposta in tanti pezzettini quindi io punterei mi è successo di persone per questo ne parlo con tanta foga proprio perché non mi sembra di vedere questa interdisciplinarità fra le competenze è possibile fare qualcosa a livello di consulta? Questo è verissimo innanzitutto e io prima ho anticipato che la consulta rispetto al decalogo che comunque dovrebbe necessariamente essere ristretto perché 10 punti non sono 135 come avremmo voluto ecco la consulta è poi andata molto avanti rispetto a questo e quello che lei ha appena menzionato è uno dei punti fissi dei nostri discorsi assolutamente la lotta questo Gianni Buonadonna il grande oncologo Gianni Buonadonna è uno degli alfieri del nostro gruppo di questo lo dice in maniera magistrale con questa sua presenza così shakespeariana oggi che è così piegato e piegato dalla malattia lo dice sempre ai convegni io sono un medico e non ho davanti un organo io ho davanti una persona che va trattata da un'equip ma qui ci allargiamo ancora non è solo una questione di dire non tenete solo in considerazione il reno ma pensate anche al resto del corpo pensate anche al contesto pensate alla persona pensate a quello che gli sta attorno da questo punto di vista io dico che noi diciamo e proponiamo che anzi io ho fatto un'avanzata proposta piuttosto dirompente proponiamo che la classe medica impari dall'esperienza degli hospice dove questo approccio è praticato con risultati straordinari non so se è chiaro a tutti cosa sono gli hospice gli hospice sono i luoghi dove si cura ripeto si cura il morire cioè i luoghi dove non esiste la frase sciagurata del medico non c'è più niente da fare andate a casa fate quel cavolo che vipa non so invece il morire si può curare c'è tantissimo da fare la scienza medica è piena di cose che può fare per morire gli hospice sono i luoghi deputati a questo dove l'approccio alla persona che sta morendo è globale c'è proprio a 360 gradi dalla spiritualità ai bisogni personali la psicologia la famiglia i figli tutto naturalmente la salute il fisico il corpo e tutto quanto allora l'approccio appunto che si prende dagli hospice è proprio questo di andare anche oltre come dicevo come le stavo dicendo al prendere in considerazione è prendere proprio anche in considerazione la persona nell'ambiente che lo circonda io quando feci l'inchiesta sugli hospice per la RAI chiamata una questione di civiltà andai in Inghilterra che è il luogo dove questa cultura è nata o perlomeno dove si è sviluppata maggiormente e mi fu raccontata una storia bellissima dal direttore dell'hospice più prestigioso storicamente più prestigioso che è il St. Christopher's mi fu raccontata una storia bellissima di questa donna con un tumore all'ovaie in fase terminale che è affetta da un dolore terribile che fu ricoverata nell'hospice e l'hospice ha cure va detto questo perché le persone lo sappiano oggi quel dolore si può trattare nel 99,9% dei casi benissimo senza rimbecillire le persone e andiamo avanti fu ricoverata in questo hospice stranamente però la terapia del dolore non funzionava con lei una cosa strana perché non aveva un tumore in fase terminale ma non è che fosse uno di queste cose uno di questi dolori neuropatici terribili che sono i più difficili da trattare sostanzialmente tutte le altre pazienti persone con lo stesso problema erano state trattate benissimo con lei non si riusciva a un certo punto l'equip si è posta il problema di cosa sta succedendo e sono riusciti faccio la storia molto in breve sono riusciti a ottenere la confidenza l'apertura di questa persona che ha raccontato il suo dramma con un unico figlio che aveva abbandonato che lei sentiva di aver abbandonato che non vedeva più da tanti anni e stava morendo gli era rimasto questo unico figlio al mondo che era già adulto non aveva sapere neanche dove fosse che lei aveva lasciato in età molto giovanile perché era un figlio ribello eccetera c'è una lunga storia non se ne era più occupata lei si sentiva tremendamente in colpa beh l'equip è riuscita a rintracciare questa persona c'è stata una riunione fra madre e figlio il dolore di questa donna è scomparso è scomparso è morta diverso tempo dopo fra l'altro neanche pochi giorni dopo diverso tempo dopo senza mai più avere dolore ecco questo è l'approccio che io dico i medici devono andare a imparare dagli hospice per quello che nelle proposte di rompenza della consulta c'è anche che vengono proprio fatti dei corsi di formazione e si spera anche resi obbligatori dei giovani medici dei laureandi presso le strutture degli hospice dove si impara quello che lei auspica di più e ancora di più quanto secondo te soprattutto nel rapporto medico paziente medico malato diciamo si tiene conto dello stato di emotività che in quel preciso momento nel momento in cui si parla con il paziente cioè volevo dire questo io ho trovato dei medici che sono molto più preoccupati del fatto di non darti più di 15 giorni perché se no può intervenire possono essere darguiti dall'organo superiore a loro oppure di 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 riuscire ad avere un stipendio maggiore che non preoccupati del fatto che ti stanno per operare e nello stesso tempo ultimamente i medici sono anche molto preoccupati perché la gente sta un po' aprendo gli occhi nei confronti dei medici che non sempre sono dei bravi medici e si vedono costretti a stipulare delle polizze abbastanza onerose per loro perché ci sono state delle cause che li hanno un po' tolto del denaro pochissimo e le aggiungo di più pochissimo anche nel contesto da parte di quei medici che si ritengono particolarmente sensibili immagini quelli che invece non si sono neanche posti il problema anche quelli che oggi dicono di essere particolarmente sensibili sai quanti medici ci hanno approcciato in particolare a me in questi anni dicendo ah io faccio una battaglia eccetera poi è capitato di averli visti all'opera insomma la sensibilità nei confronti dell'impatto emotivo con la persona che erano davanti era del tutto relativa quindi tu immagina quelli che poi manco si oppongono ai problemi questo è purtroppo e molto poco accade sa lì credo che torniamo a un discorso che è piuttosto ampio bisogna partire da molto molto indietro la dottoressa Silvia Menard che io ho citato prima come quel medico del nostro gruppo che decise così eroicamente ammalata di cancro di fare i percorsi della sanità della persona comune racconta da questo punto di vista un episodio bellissimo proprio per dire quanto è difficile riuscire veramente a capire qual è l'emotività della persona che è davanti e che è in un momento di crisi lei dice quante volte camminando per il corrido dell'istituto tumori di Milano per 32 anni io ho incontrato persone che mi dicevano chiedo dottoressa scusi dov'è l'ambulatorio di laparoscopia dov'è l'ecografia il cartello era lì e lei diceva ma guardi c'è il cartello lì è lì e poi di fianco a lei ah ah sì scusi grazie quante volte mi è successa questa cosa no? il giorno in cui mi fecero la diagnosi di tumore al midollo osseo io usci dalla stanza al secondo piano del mio istituto e vagai per 20 minuti senza trovare il mio studio non riuscivo più a trovare il mio studio che per 32 anni avevo frequentato e mi venne in mente quante volte avevo dato una risposta distratta a una persona che mi chiedeva dottoressa dov'è la tacca e dice magari è lì no? mi è venuto in mente perca miseria ecco cosa succede all'emotività di chi cosa vuol dire per cui lei dottoressa umana dedita alla medicina umanizzante prima di ammalarsi questo era noto però nonostante questo non era riuscita mai a capire cosa voleva veramente dire l'emotività di una persona in crisi e lo ha capito in quel momento lì quando gli fu data la diagnosi capito questo per rispondere alla sua domanda cosa ne pensi di un ambiente assettico medicalizzato secondo te non favorirebbe un ambiente più umano confortevole effetti hai già risposto parlando del no ma c'è dell'altro da dire perché noi fra le nostre proposte abbiamo c'è anche un punto che riguarda proprio l'ambiente ospedaliero cioè non solo come dico noi andiamo a cerchi concentri parliamo di umanizzazione ma ancora ma ancora ma ancora cioè quindi oltre a tutta l'umanizzazione di cui abbiamo parlato fino adesso a tutti i vari strati di umanizzazione che vogliamo ma c'è anche una cosa che vogliamo proporre che riguarda proprio l'accoglienza degli ambienti ospedalieri dove non esistono spazi per i bambini che vanno a trovare i genitori che sono ammalati dove non esistono spazi per le persone per rinfrancarsi un pochino dove non esiste uno straccio d'attenzione all'estetica e alla cura del corpo di chi è ammalato specialmente da questo punto di vista devo dirlo non per dire una cosa retorica le donne perché un uomo che se ne sta in un letto 25 giorni insomma riesce a mantenere comunque un minimo uno straccio ma una donna si disfa perché la donna è culturalmente tradizionalmente abituata a curare molto di più il proprio corpo non puoi permettere che una donna se ne stia lì e dopo 20 giorni te la trovi con i capelli che sono una padella appiccicata sulla testa che odora di ospedale gialla poi anche l'intrattenimento ma perché non ci deve essere il teatro all'ospedale perché non ci devono essere le conferenze di politica di economia naturalmente ovviamente hai il livello di accessibilità chiaro voglio dire no ecco perché non ci deve essere il modo di linkare questi eventi nelle camere delle persone che non possono spostarsi anche per dire perché l'ospedale deve essere solamente un luogo così avulso da tutto quello che tu hai conosciuto per tutta la vita capisci cioè capita come capita sempre lo sappiamo che tu hai fatto per 30 40 50 60 70 anni una cosa dal giovedì al venerdì mattina improvvisamente viene espulso dall'ambiente di 70 anni e ti trovi in st'affare dove magari rimani due mesi che non è tuo che è alieno dove non c'è niente dove tutte le sembianze di una vita comune sono sparite cioè è una cosa terribile questa noi vogliamo che gli ospedali vorremmo che gli ospedali diventassero dei luoghi dove si ricostruisce anche un ambiente umano di vita umana questo non solo per andare anche oltre al discorso dell'umanizzazione secondo te come mai noi che abbiamo realizzato questa cosa nel nostro piccolo nel nostro piccolo noi tu non hai avuto modo di vedere la nostra sede però la nostra sede era era stata concepita proprio in questi termini cioè l'essere un luogo dove la persona che soffre si trovasse a casa quindi c'era la biblioteca il cineforum c'erano momenti di incontro momenti goliardici anche momenti di sofferenza comune momenti di gioia comune e di grande partecipazione perché le istituzioni e i miei colleghi ci hanno fatto terra bruciata intorno ma nel vero senso della parola perché voglio dire atti vandalici erano la quotidianità ci hanno mandato persino in asse oltre all'USL all'ASL scusate oltre a tutti i vigili tutti i giorni c'era qualcosa di nuovo no? buchetta della posta che ormai non l'abbiamo neanche più cambiata fino al punto di farci chiudere perché ci hanno detto io sono stata accusata di essere una sovversiva una comunista perché cioè lottare per il benessere dei pazienti al di là del profitto vuol dire essere comunisti boh io non lo so te cosa dici vabbè ma la risposta a parte che sono scandalizzato che non hai il camice indosso che è una cosa che mi non capisco come possiamo prendere sul serio questa persona che non indosso neppure ma sei lavorato no scherzo scherzo naturalmente sto dicendo la risposta alla tua domanda è banale ovvia è la storia di tutti i fenomeni che danno che danno fastidio all'istituzione l'istituzione si chiude a riccio si difende e colpisce questo non è una cosa devo dirti è brutta ma non mi scandalizza è la norma lo dobbiamo mettere in conto va messo in conto è il destino di chiunque di qualcosa fuori dal gruppo anch'io subisco angheria nel mio mestiere dalla mattina alla sera quindi insulti non ne parliamo io più che una domanda volevo dire che forse ho trovato il detto a cui si faceva riferimento prima il detto francese curare spesso guarire qualche volta e consolare sempre era questo quello del sì sì credo dell'inizio no 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 questo ricalca ma un'altra cosa che credo adesso venendo più precisamente alla questione se mi ricordo bene è una frase contenuta in quel film Patch Adams Robin Williams che fa la parte del medico dice in corsia guarda che se tu appunto usi la tecnica curi qualche volta se invece ami il tuo paziente lo curi sempre una frase così e allora ci sono delle cose importanti che vorrei aggiungere che sono importanti da inserire in questo dibattito allora innanzitutto anche se ho un'opinione generalmente inclemente della figura del medico perché sono poi profondamente convinto che tutti questi medici che vorrebbero che dicono a parole di desiderare così tanto una medicina più umana eccetera e danno sempre la colpa a qualcun altro se non ci riescono potrebbero benissimo poi mettersi assieme così come ha fatto l'umanità da sempre cioè quando ha voluto fare qualcosa gli uomini sono uniti sono riusciti a farlo i medici hanno molto più potere di quello che dicono di avere perché infatti appunto una delle scusanti che vanno menzionate perché è in parte vera è che la struttura politica amministrativa e moderna dell'aziendalizzazione sanitaria rende la vita del medico un inferno da certi punti di vista e quindi probabilmente gli impedisce anche se volesse di essere più umano più gli otto minuti del colloquio all'ecografia e che non possono essere nove e se sono dieci ti arriva da circolare ma questo capita è la vita di tutti i giorni sono in effetti un limite i turni di lavoro dei giovani medici di 14 ore sono un altro limite eccetera e tutto questo va detto è vero i medici sono anche schiacciati da un sistema che sta diventando folle perché è in mano alla politica in mano agli interessi privati in mano ai massoni e via dicendo alle carriere alle cordate però ripeto io aggiungo tutte le volte che mi fanno queste obiezioni io dico sì avete ragione c'è questo io voglio vedere quale amministratore sanitario licenza i medici di un intero policlinico perché se vi mettete assieme dite da domani mattina lunedì 21 luglio noi la visita non la facciamo più di 8 minuti la facciamo quello che è e chi se ne frega pensateci voi a risolverci i problemi perché noi siamo medici e dobbiamo trattare con esseri umani io voglio vedere se i medici si coalizzano e fanno uno sciopero attivo cioè lavorando di questo tipo voglio vedere qual è il direttore sanitario che li licenzia tutti quanti in tronco ecco allora i medici potrebbero darsi un pochino più da fare ma questa è una cosa che va menzionata le difficoltà burocratiche le difficoltà della struttura eccetera la seconda cosa che voglio menzionare è la responsabilità delle persone perché noi facciamo dei discorsi che sono bellissimi che mi appassionano e che io auspico che divengano realtà un giorno ma guardate se il cittadino non si mobilita su questo cioè a un certo punto per avere gli ospedali che vorremmo per avere i tempi della sanità che vorremmo per avere la formazione che vorremmo e ci vogliono anche i soldi e fino a che la gara è quella pagare le tasse possibili e dire no sì certo quando ti ammali capito non vuoi mai pagare le tasse proprio quando ti ammali dice ma com'è che in ospedale non c'è questo com'è che non c'è quello com'è che eh ma bimbo mio dove sei stato fino ad oggi cioè perché te ne sei mai occupato capite che qui andiamo a pescare in un problema culturale colossale che è la rimozione della sofferenza della morte per cui tutta la vita tutto illudica non ti capiterà mai poi quando ti capita pretendi mezzi ma il cittadino deve impegnarsi non solo deve impegnarsi uno dei punti del nostro decalogo è che come dicevo anche all'inizio è che il cittadino cominci fin dagli anni del liceo venga insegnato questo farà parte di una bella rivoluzione della scuola venga insegnato fra le materie rivoluzionari che si potrebbero insegnare anche che cosa come comportarsi nei confronti della malattia nei confronti delle diagnosi nei confronti delle strutture ospedaliere capire come funzionano gli ospedali capire che cosa vuol dire la scienza cosa vuol dire la medicina capire che la parola del medico non è il vangelo capire che la scienza non è certezza tutte queste cose ma capire soprattutto come rapportarsi e vengo a una parte della sua domanda signore che ho trascurato cioè il discorso delle cause delle azioni legali le azioni legali oggi sono al 90% il riflesso di una incapacità di comunicare dove tu hai appunto questi due fronti che si scontrano invece che parlarsi perché il medico e l'infermiere sono di corsa e non ti parlano tu sei sbalottato 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 poi la prima volta che succede qualcosa ti infuri sfoghi tutta la frustrazione e chiami l'avvocato capisci non c'è stata comunicazione e bam e si finisce così allora la persona il cittadino dovrebbe imparare noi abbiamo chiamata la cultura dell'essere paziente cioè dell'essere persona che avrà bisogno un giorno della sanità quindi imparare anche a muoversi ci deve essere la partecipazione del cittadino se no questo progetto fallisce e un ultimo punto che per me non fa parte del lavoro della consulta è una cosa che io ho dentro di me da tanto tempo io sono convinto che a monte di tutto questo ci sia un problema culturale ancora più profondo della rimozione della sofferenza della morte ancora più profondo del disinteresse del cittadino ancora più profondo dei mali che abbiamo finora menzionato cioè io tutto sommato ho cominciato a interessarmi di questi temi della sofferenza umana mi sono dato molto da fare anche come volontario ho fatto tanti anni in ospedale perché fin da piccolo oserei dire fin da ragazzino io sentivo che era come se negli ospedali ci fosse una una volontà di punire le persone io non capivo perché chi sta già male dovesse trovarsi in luoghi che lo trattano ancora peggio oh ma ma perché deve succedere questo e allora sai uno dice succede perché la mancanza di mezzi di tempo da un po' umanizzazione eccetera vogliamo andare a un livello un pochino più profondo non è che per caso abbiamo impostato la medicina come come quel ghetto dove la società la collettività vuole rinchiudere chi ha la sfrontatezza dimostrarti che esiste la morte e la sofferenza perché finché sei sano vincente funzionante eccetera va tutto bene sei accettatissimo nel momento in cui ti ammali comincia a perdere gli amici non si fa più più nessuno eccetera e ci sono gli ospedali gli ospedali sono i ghetti dove la collettività butta con rancore coloro che hanno avuto la sfrontatezza di mostrare alla collettività che esiste qualcosa di diverso dalla vita dalla gioia dal benessere cioè la malattia e la sofferenza e negli ospedali ci sono dei medici non tutti ma ci sono dei medici che sono deputati a questo compito cioè di continuare la punizione ed ecco perché così spesso si trovano negli ospedali anche gli infermieri fanno questo si trovano negli ospedali questi atteggiamenti così insensatamente crudi che non possono essere giustificati con la fretta con la pressione dell'amministrazione con la stanchezza perché non si capisce perché certe cose devono succedere ne ho viste tante che non erano sono stato molto attento non erano giustificate da motivi di nessun tipo se non io credo proprio questo ci sia questo disegno e tutto questo ci riporta al rapporto che noi abbiamo col morire e con la sofferenza e fino a che non andiamo a curare questa roba e io ho enunciato in un mio libro che si chiamava aiutami a morire un principio cioè parlando dei morenti dicevo loro sono noi e noi siamo loro se noi riuscissimo tutti a un po' introiettare è far nostro questo patrimonio cioè quando hai davanti un ammalato non è un ammalato non è il morente non è lo zio che muore non è il paziente sei tu lui è te e tu sei lui se riuscissimo a fare questo io credo che tutta questa crudeltà e cattiveria e queste sofferenze in più non ci sarebbe posso fare una piccola obiezione cioè non è un'obiezione è un è un dire stiamo attenti stiamo attenti perché quando abbiamo fatto quel discorso a proposito della malattia mentale poi i malati sono andati in carico solo ai familiari quindi stiamo attenti a fare un discorso del genere perché purtroppo il discorso della malattia mentale anziché dalla legge Basaglia non è migliorato è peggiorato tantissimo io ho conosciuto gli ospedali psichiatrici chiaramente non ero paziente io ma ero un mio familiare come erano prima della legge Basaglia e come erano dopo la legge Basaglia posso dire che non c'è differenza prima era una bruttura là dopo è stata una bruttura per la famiglia una cosa orribile per la famiglia un inferno che non si augura a nessuno quindi per fare questo discorso attenzione attenzione a non far ricadere questa responsabilità solo sulle spalle dei familiari mi sfugge il nesso fra quello che ho detto e questa possibilità perché non abbiamo parlato non ho detto gli ospedali sono dei ghetti quindi aboliamo gli ospedali e cosa facciamo no stiamo parlando di abolire una cultura o se vogliamo un riflesso sociale che degli ospedali ha fatto dei luoghi anche di punizione non solo di cura non sto dicendo di dare in caso erano così gli ospedali psichiatrici non erano nient'altro che dei luoghi di punizione perché questa gente aveva avuto la maleducazione di ammalarsi di una malattia psichiatrica e quindi erano così cioè la mia paura è quella cioè è giusto l'importante che rimangano gli ospedali che rimangano le persone curate da dei medici coscienti e che non si non si dia la possibilità di curarsi solo a chi è ricco perché chi è ricco stava bene prima quando c'erano ospedali psichiatrici sta bene ora perché ha la possibilità di curarsi in cliniche avanzatissime con con degrazzoni beh insomma sì certamente la malattia psichiatrica non è mai il chirurgo il chirurgo Bartoccioni mi ha raccontato e sono parole sue della morte prematura della start televisiva di stranamore come si chiamava Castagna il quale mi diceva Bartoccioni sono parole di un chirurgo di grande prestigio è stato sostanzialmente ammassato da un'operazione fatta da un chirurgo di elite di questi appunto della sfera dei ricchi che gli ha fatto un taglietto troppo piccolo e non potendo vedere bene quello che faceva lo ha curato male e dopo c'è stato quello che c'è stato se lo avesse sbragato chiedo scusa come si fa con tutti i normali cristiani forse Castagna sarebbe ancora vivo quindi non è sempre detto che la sanità dei ricchi serva guardi che Coppi è morto perché Coppi è famoso ciclista si ammalò di malaria con un suo collega ciclista un gregario qualunque il gregario è sopravvissuto perché è stato curato da un medico qualunque che capite Coppi andava dal top e non hanno capito un accidente di niente l'hanno ammazzato quindi non sempre è non sempre vero sicuramente la competenza non è riferibile solo al top al fatto di essere illuminati ma al di là di quello vedi comunque la paura la paura del paziente che viene fuori do la colpa ai medici e agli educatori questo è un discorso che abbiamo già affrontato io sono convinta che tutto il discorso della partecipatività e della responsabilizzazione dei pazienti dei cittadini dei cittadini nei confronti della sanità e non solo della vita pubblica della vita sociale in generale a tutt'oggi possa essere per dare una svolta concreta nelle mani di chi svolge un ruolo educativo gli insegnanti i medici i giornalisti i preti mettiamoci anche loro chi ti pare ma chi svolge un ruolo educativo si deve porre nella condizione di mettersi in discussione non avere la paura di essere licenziato perché può accadere allontanato da determinate situazioni di tipo ufficiale lavoro sicuro però noi abbiamo una grandissima responsabilità in questo senso perché chi usufruisce per esempio della sanità ha paura ha paura poi l'hai scritto anche nel libro del ricatto perché dice se poi io mi rivolto a quel tale infermiere medico che ha trattato male la mia mamma poi questo alla notte non va a cambiare la padella cosa peraltro che devo dire vera verissima ma succede tutti i giorni esatto tutti i giorni succede perché io vedere delle donne di 80 anni magari anche con una demenza senile in uno stato di grave sofferenza io ero in geriatria ai primissimi tempi nei quali frequentavo l'ospedale arrivavamo in visita a scoprirle così come se fossero degli animali senza minimamente prestare attenzione alla dignità di quella povera donna io sono sempre stata al reparto femminile a me mi si stringeva il cuore perché mi sembrava se ci fosse mia mamma in quel letto per dire no quindi la paura di chi è fuori dall'ambiente medico è una paura sacrosanta allora sta in noi avere la capacità di con molta pazienza e non essere attaccati all'orologio perché non si può io sono stata accusata in questo senso ma tu fai degli incontri vai al di là per te il tempo non esiste ma il tempo è quello che passo con il paziente quello è il tempo che esiste quello è il tempo che ha un senso la professione medica è una professione che dovrebbe andare al di là del profitto perché altrimenti ragazzi qua veramente ci dimentichiamo di quello che è l'obiettivo che è la salute almeno il non nuocere al paziente ma quanti medici hanno davvero scelto di fare il medico per scelta loro capisco benissimo la motivazione della domanda la risposta non può essere data naturalmente che nessuno è nell'anima nel cuore della singola persona che sceglie di fare il medico il professor Francesco Sartore gli studenti ha detto più volte questa cosa se guardate io mi raccomando se al primo secondo anno se alle prime volte che entrate in corsia vi rendete conto che voi non riuscite ad amare i vostri pazienti le persone cambiate facoltà è una provocazione estremamente dura perché sono due parole ma però in effetti sapere perché uno vuol fare il medico certo uno può essere spinto dalla ma per esempio il professor Sandro Bartoczioni lo confesso apertamente credo che sia anche nel libro se mi ricordo bene lui scelse medicina perché si è rinnamorato così tanto di questa ragazza che studiava medicina e pur di studiare assieme è capito però poi era un uomo di un'umanità incredibile che stava 14 ore in ospedale metteva le ciabatte le pantofole ai suoi pazienti li incoraggiava a scendere dal letto faceva delle cose straordinarie quindi lì c'è stata una coincidenza la motivazione iniziale era certamente non proprio del tutto etica perché far medicina perché ti non muovi da una ragazza è simpatico però poi è coincisa con una personalità molto umana ecco la raccomandazione di Sartori vale da questo punto di vista ok se cominci a far medicina perché ti non muovi da una ragazza da una ragazza però poi ti rendi conto che non hai un trasporto soprattutto non hai amore per la persona che hai davanti cambia mestiere e sarebbe questa la soluzione ideale ahimè è durissima rispetto alla responsabilità del cittadino quando si faceva riferimento al discorso delle tasse che a volte si storce un po' il naso che si vorrebbe poi l'ospedale funzionante è confortevole però poi quando si tratta di togliere ma se io come cittadina e penso la maggior parte dei cittadini se io avessi la certezza che quella tassa che io pago va a finire nell'ospedale che diventa più accogliente ma con tutta l'anima pagherei questa benedetta tassa il problema è che per come vanno le cose oggigiorno pare che noi si tolga e qualcun altro ingrassi questa è la difficoltà credo della maggior parte dei cittadini perché io vedo ho un termine di paragone parto ovviamente dal mio vissuto dei parenti in Svizzera prendono signori stipendi decurtati da signore tasse ma come fanno a? c'è qualcuno che gli dice A vuol dire tot c'è un'assistenza sanitaria io mi trasferirei a Zurigo domani se trovassi lì il mio ambiente chiaramente esistenziale adeguato diciamo così di vita però è questo quello che manca oggi per motivare questa partecipazione sociale credo nell'istituzione sanità piuttosto che in tutto quello che ci circonda poi non so il circolo vizioso dove si può interrompere e cosa lo può inceppare però già se qualcuno di questi signori gonfi si sgonfiasse un pochettino e mettesse del suo portafoglio orientato in questo senso del miglioramento del servizio sanitario sociale anche scolastico perché io per esempio insegno quindi nella scuola lo vedo benissimo che siamo sempre lì insomma ecco quindi allora già uno si tirerebbe più sui dici ah che c'è da pagare questo certo che lo pago se puoi va lì questa sua osservazione si appoggia su una convenzione molto comune per l'italiano per tutti noi italiani cioè che esistono gli individui la loro vita le loro cose ed esista lo Stato e lo Stato è un signore che se ne sta là e tu dici ma io perché devo dare soldi a questo signore che oltretutto è anche uno sciupone ma lo Stato sei tu sono io e se i soldi vengono sciupati è perché li sciupiamo noi permettiamo che vengano sciupati lo Stato siamo noi non è che possiamo pensare che la partecipazione politica sia come ho scritto di recente una roba dove tu dai a un bambino le chiavi del magazzino della Nutella poi dici mi raccomando comportati bene e tu vai via quel bambino con le chiavi del magazzino della Nutella cosa fa? Apre il magazzino e se la mangia tutta e tu devi controllare quel bambino perché se no è finita e se il cittadino non partecipa in questo modo per forza che poi i soldi vengono sprecati la seconda cosa da osservare è che attenzione la moda che sta spassando l'Italia della condanna della casta visto tanto per citare questo libro che sta facendo creando questa cosa è secondo me molto forviante perché se tu calcoli i 270 miliardi di euro di evasione di IVA in questo paese voglio dire ed è solo di IVA oltretutto non è l'evasione totale metti pure anche la metà dei 260 miliardi di euro che è impossibile ma la metà sia ben motivata gente che non ce la fa a fine mese gente che non paga le tasse perché è disgustata dallo Stato eccetera ma dico questi sono una quantità di soldi che sono sottratti ai beni comuni inclusi gli ospedali è incredibile cioè è una finanziaria che sono 20 30 capito miliardi di euro qui abbiamo 270 che spediscono ogni anno e allora non è che noi possiamo tanto incolpare la famosa casta io lo dico uno slogan che ho mai l'ho lanciato la casta siamo noi per cui lei dice io pagherei volentieri le tasse se se ma lei si è autodenunciata adesso qui bisogna interrompere un po' questa cosa il cittadino deve farsi carico di essere lui lo Stato e darsi da fare ci sarà qualcuno a cui vi ha dato le chiavi del magazzino della Nutella che se la sta mangiando troppo allora lo prendi e dai una tirata d'orecchia capisci ma non che dici smetto di pagare le tasse perché lui si mangia la Nutella agisci noi ti ringraziamo moltissimo per l'opportunità che ci hai dato perché come vedi si è accesa la discussione io sono contentissimo perché vedete qui questi gruppi che si fanno queste piccole cose noi siamo veramente i carbonari di una no siamo sul serio i carbonari di una di un mondo che potrebbe essere il migliore non vi sottostimate non vi fate prendere dall'idea che siete un piccolo gruppo così di Garibaldini che si riuniscono e cosa vuoi che facciamo no 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 questi sono cose questi sono dei mattoni che sono fondamentali resistere proporre alternative si parte da due tre quattro persone che si trovano in un appartamento e che parlano di queste cose è così che si costruisce il futuro lo hanno costruito così sempre gli uomini sono partiti in tre quattro e poi hanno costruito dei futuri diversi quindi queste iniziative che uno può condividere perché non è detto che io condivida tutto quello che dice Luisa non è detto che Luisa condivida tutto quello che dico io voi non dovete assolutamente pensare che quello che io vi ho detto va preso come oro colato ci stiamo scambiando delle possibilità e delle opinioni per dare una pennellata di decenza a questo mondo sono esperienze importantissime queste importantissime noi non lo sapremo mai perché moriremo tutti prima ma ci sarà qualcuno fra tanti anni che dirà ma pensate a quelli e si ricorderanno senza sapere chi eravamo che si appunto si riunivano una sera di novembre in un appartamento e cominciavano a parlottare di queste cose così come noi ricordiamo quei pochi personaggi il Cesare Beccaria che da solo come un matto si mise a dire ma veramente la tortura non è che sia questa gran cosa il Montesquieu che si mise a pensare ma se dividessimo i poteri dopo 3.000 anni di assolutismi questo che pensava di dividere i poteri un matto no? ecco allora e noi oggi ringraziamo questa gente qualcuno un giorno ringrazierà noi quindi tenete sull'autostima e è importantissimo quello che si fa qui ringrazierà noi